Buongiorno amici dell'arte Oggi è sabato 28 aprile Esattamente sono le 10.05 E mi vedete così indinghere per modo di dire con la cravatta Perché tra non molto, tra una mezz'oretta Avrò un incontro con il sindaco al comune di Sorano E presenteremo diciamo così L'evento Marem Martespo Ho compreso la festa di primavera Che a loro interessa tanto Abbiamo già fatto altri comunicati Che se avrò modo di reperirli al mio rientro a Grosseto Diciamo così poi li potrò mettere nella mia pagina di Youtube Vi ringrazio per la pazienza per vedere queste piccole cose E un sorso d'acqua alla vostra salute Ciao amici Bene, ora ci avviamo verso il cortilone I primi turisti Buongiorno Buongiorno Un negozio di ceramica Gioravanti Buongiorno Questa terrazza è uno dei punti che mi piace di più di Sorano è un bello spazio, la sera qui si radunano i giovani a discutere delle loro cose si bevano qualche birra niente di particolare questo è il panorama sotto che si vede il fiume Lente ed è anche uno dei migliori posti per la ricezione con il cellulare lasciamo la terrazza e continuiamo ad andare su per il cortilone per il cuore la terrazza e il cuore il cuore e il cuore il cuore Buongiorno. 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 Cosa? Qui cercavate qualcuno? No, siccome lei fa anche dei quadri alla casa qui, voleva sapere se c'è qualche possibilità di poter esporre? Adesso, domani, in un prossimo futuro. In un prossimo futuro lei dovrebbe fare una cosa. Guardi, io sono un'organizzatore. Ecco, perché? Questo è il mio intervento. Sì. Se non è da un'unica, non è da un'unica, non è da un'unica, non è da un'unica. Sì, che poi lei ha la casa qui, quindi sarebbe anche una suonanese acquisita. A visita. Sì, a visita. Eh sì. Ecco. 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 Grazie mille. Arrivederci. Grazie ancora. Buona giornata. Bella questa, sì. Bella questa, sì. Un po' bella. Stai là. Buon giorno.